C'era una volta un regno incantato, un perfido mago con grandi poteri. Tutto ciò che ami sarà mia. Una splendida principessa prigioniera di un incantesimo. Mi vuoi sposare? Ti direi morire. Sta arrivando. Che cosa? Un'idea. Uno straordinario gruppo di amici. Ti salvo io, Madhuelsen. E un principe pronto ad affrontare ogni pericolo per amore. Io non la lascerò morire. L'incantesimo del lago. Mercoledì alle 20.45 su Italia 1.